si chi è? amazon e ciao a tutti, bene ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video da Dome PC ebbene oggi sono arrivati dei prodotti tramite amazon andiamo a vedere subito la boxing e vediamo di cosa si tratta allora per prima cosa vediamo cosa è arrivato sembrano pure leggeri, non tanto pesanti, andiamo a vedere ok, ti do una mano vediamo cosa c'è ah eccoci qua, ed eccoci qua è arrivato una cosa che aspettavamo abbiamo marca Toshiba, scommetto questo è un HDD da 3,5 andiamo subito ad aprirlo, è arrivato impacchettato pure bene andiamo ad aprirlo da, vediamo da quanto è quanti tera è, sarà ok, Toshiba da 3,5 da 1 TB, perfetto questo è un HDD pensato, è quello qua con la scheda madre, vedete qua col chip connettore per alimentazione e dati ok, perfetto pensato per voi che avete un computer a casa per ampliare lo spazio di archiviazione, installare un sistema operativo mettere dati, va benissimo abbiamo 7200 RPM quindi di velocità va bene quindi molto veloce e 64 MB di buffer ok, perfetto serviva, in quanto abbiamo visto nel video che lascio anche sotto in descrizione abbiamo sostituito il disco è troppo rumoroso poi andiamo a vedere questo come andrà ok, poi cosa è arrivato vediamo cosa è arrivato qua a ventola Corsair da ML 140 Pro LED colore rosso ok, a LED con l'arrivo dell'estate ho pensato di comprare già una ventola 140 mm per radiatore o ventola ad aree per il nostro colosso della Mag Codex ecco qua il Mag Codex 5 da buttare qui all'interno nella parte o superiore o a coppia dall'altra gemella qui superiore perché nel vano posteriore porta una 120 mm quindi poi andiamo cosa mai a buttarla anche dentro poi ah, ecco qua cosa abbiamo ancora un SSD Crucial da 1000 GB MX500 da 2.5, perfetto ok ho ordinato anche questo SSD perché io sono patito per gli SSD da lavorare con il mio computer o portatile o fisso ok e quindi ho ordinato questo Crucial me lo apri per favoreva che non ho la forbice ok, quindi SSD che può essere anche messo in un computer fisso ok, come in questo caso nel mio Mag Codex 5 oppure installarlo in un computer portatile al posto del vecchio hard disk da 2.5 che solitamente portano eccolo qua, guardate qua piccolo, compatto andiamo a vedere cosa c'è dentro calcato bene eccolo qua, Crucial stiamo parlando di un SSD comunque con molto leggero e molto più veloce il vostro HD tradizionale piccolo che avete nei computer portatile infatti andiamo a vedere casomai faremo un video anche dedicato come aumentare la velocità del vostro computer soltanto installando un hard disk da 90-100 euro ok, perfetto lo rimetto qua e poi abbiamo un'altra scatola mi fa vedere cosa c'è dentro per favore oh, voilà abbiamo ecco qua togliamo il cellophane una ML 120 mm Pro LED della Corsair il marchio parla da sé cari amici Corsair, quello che mi fornisco io per quanto riguarda ventole e guardate qua una 120 mm bianca di silenziosità potenza da poter raffreddare il vostro computer ora che arriva l'estate e bene e che va installato in questo caso nel mio Mag Codex 5 nella parte posteriore qui all'interno porta la 120 mm perfetto e ah ecco qua vedo che c'è qualcosa nelle mani non mi hai dato colpa mia eccoci qua vediamo cosa c'è ah eccoci qua infatti ho pensato già ce l'avevo installato eccolo qua sarebbe un'app della Deepcool FH04 4 port fan hub sarebbero praticamente un'app delle ventole che andiamo a vedere come è strutturato foglietto illustrativo va bene ecco qua molto ben strutturato praticamente questo connettore si collega alla scheda madre e qua ci sono i connettori questo qua 4 pin a ciascuno da installare le vostre ventole quindi non vi preoccupate se avete soltanto la vostra scheda madre del computer soltanto una porta due porte per le ventole basta che comprate questo hub che potete già installare 4 ventole eccolo qua 1, 2, 3 e 4 fan ok molto carino posso dire qui abbiamo addirittura lo strap per metterlo ancora dal vostro computer qui eccolo qua con un bioadesivo dai diciamo eccolo qua perfetto e va bene secondo te ti possono servire questi prodotti? vabbè io che lavoro tantissimo con il computer io adoro questi prodotti mi potranno servire sicuramente anche per avere una buona memoria sono garantiti e il marchio è ottimo sì due anni di garanzia perché i prodotti di Amazon hanno due anni di garanzia ma oltre vabbè tu che sei una studentessa non è che ci giochi però già ti ho messo questo hard disk da un tera puoi buttare tutte le tue tesi dentro qui al tuo computer se lo metti nel tuo computer il tuo fisso o poi il portatile o anche un fisso abbiamo questo fantastico crucial da un terabyte molto veloce che quadruplichi la tua velocità vorresti svecchiare il tuo computer certamente voglio svecchiare il computer con nuovi prodotti questi con che stai appunto presentando sono ottimi consiglio ovviamente di acquistarli io che sono una studentessa sicuramente mi serviranno anche per velocizzare un po' quello che è il mio lavoro da studentessa e anche per avere una buona memoria bene 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 cari amici avete sentito già una studentessa che non ha esperienza già comunque va a vedere comunque questi prodotti come spazio archivazione per le sue tessite laurea video foto amici eccetera da mettere appunto tutti nei suoi computer inoltre per gli amanti di chi ama le luci guarda qua luce led bianca luce rossa io sono una fan scusami se ti interrompo sono una grandissima fan delle luci quindi straconsiglio poi il marchio è veramente ottimo e va bene cari amici andiamo a vedere poi nei prossimi video come utilizzare questi prodotti al miglior dei modi e poi tutti questi confluiranno in un unico computer cioè nel mio pc e bene amici se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale un saluto ad un pc e da eva un bacio e iscrivetevi al canale come ha detto domenico e seguiteci in tanti ciao 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 ciao